...distanti come Alfa Centauri, il francese, ormai madridista d'adozione, vorrebbe un calcio raffinato e colto, recupera Cristiano Ronaldo, ma il suo real... Stanno parlando della Champions? Della finale? Ma, Filippo, Monica, Pizza, ma scusa qua, mi parla da Juve? Ma, mica, allegri che il faccio da gna gna, gna... Aitta, morti, non c'è questo anno, non c'è questo anno, non c'è questo anno, non c'è fino alla fine, ma quando sarei in finale, vincere, quando vincere, guarda che roba, ecco è, ecco, niente da fare, Pippo, niente finale della Coppa, scanzia oda, da 20 anni. Gobi, il cazzo domina. Ecco, buonanotte. Mai la Juve, soprattutto mai la Juve, lo so. Ecco Dopone, questo ce l'ho, serio, serio.